Il pubblico impiego è sotto attacco. Questa è la dichiarazione di Giuseppe Barone, coordinatore provinciale della CISL Funzione Pubblica, che dopo la riunione di lunedì scorso indetta dai sindacati per discutere delle iniziative da intraprendere a seguito dell'attacco al pubblico impiego regionale, previsto nelle norme già predisposte nel disegno di legge alla prossima finanziaria, torna a sottolineare la necessità di azioni concrete, se è il caso anche il blocco degli uffici, a tutela dei lavoratori e dei servizi erogati. 865 dipendenti regionali nella provincia di Caltanissette imbiegati nei vari servizi, 182 quelli della Camera di Commercio, dell'IRSAP e dell'ente sviluppo agricolo, che rischiano i prepensionamenti forzati, il taglio dei salari accessori, la mobilità selvaggia, il blocco dei contratti e del turnover. Le rivendicazioni per il personale regionale degli enti avranno culmine con la manifestazione regionale che si terrà il 27 febbraio a Palermo e con lo sciopero generale del 20 marzo. Il pubblico impiego è in attacco perché sono state predisposte e sono state inserite nel disegno di legge complessivo di approvazione del bilancio definitivo della regione siciliana alcune norme che vanno a intaccare il pubblico impiego, in particolar modo perché il che riguarda il nostro territorio sono previste decurtazioni di personale, mobilità e quant'altro che potrebbe incidere direttamente sui servizi che fanno capo a Caltanissette. Parliamo di servizi come le motorizzazioni civili, parliamo di servizi come i beni culturali, parliamo come il corpo forestale, in base a queste disposizioni di legge, se dovrebbero essere approvate, daranno un netto taglio a questi servizi. Per cui abbiamo preoccupazione che questo incida direttamente sulle utenze, sugli accessi ai servizi. In realtà invece si dovrebbe fare operazione diversa, rendere il pubblico impiego più efficiente, migliore, non operando una spending in review indiscriminata che prevede solo tagli, ma rafforzando invece alcuni servizi come servizi turistici, beni culturali o quant'altro, che in realtà potrebbero portare benefici all'intera comunità in Sena, anziché operare i tagli indiscriminati.